La Notte dell'Onestà è una festa, è una festa educata, è una festa propositiva. Onestà vuol dire combattere l'illegalità. Noi abbiamo avuto in questa regione uno dei massimi esempi di corruzione e di illegalità. Il Movimento 5 Stelle invita tutti sabato alle 17 in Piazza Frate a Lozzo a Testino, nel cuore dei Colli Uganei, a due passi dalla villa dell'ex governatore Giancarlo Galan, prima tappa di quella che i grillini chiamano la Notte dell'Onestà. Faremo una passeggiata educata e silenziosa di fronte all'abitazione di Galan, che rappresenta in questo momento quello che è il massimo dello scandalo, ricordiamoci e lo ricorderemo a tutti, che ancora percepisce lo stipendio, nonostante sia agli arresti domiciliari. Poi il dibattito con senatori, esperti di diritto e uomini di spettacolo, che daranno il via a un appuntamento definito dai suoi organizzatori, di alto livello ma anche divertente. Faremo una grandissima festa che sarà organizzata nel Movimento 5 Stelle, ma vedrà partecipare tutti i cittadini di qualsiasi tipo di schieramento, che uno sia della Lega, del PD, o che sia di destra o di sinistra, non importa. Questa è una festa delle persone oneste che hanno deciso di andare oltre questo sistema e che hanno bisogno di proposte. Proposte che garantisce Berti prima di portare in Regione, spiegherò ai cittadini proprio in occasione di questa grande festa. Quello che noi porteremo non saranno, urla, sono bravi tutti a essere contrari. Noi portiamo proposte concrete per andare oltre questa situazione e riportare un clima di vera e grande legalità.